Non ho digerito ancora che la scorsa volta si riuscite a sconfiggermi Mi dispiace Steph Ho preparato un nuovo 1 contro 1 con corsa alle armi Abbiamo però un sacco di particolarità Prima di tutto le armi sono tutte diverse rispetto all'altra volta È pieno di armi particolarissime con cui sfidarci e non sarà per nulla semplice Ma la novità maggiore è l'armatura che indossiamo Perché ci permette di fare un qualcosa di molto particolare Hai già notato Fred, l'hai già provata? Sì, perché venendo da temere sono accorta Questo ci permette di fare Esatto, quindi i nostri fight potranno essere anche così Capite bene che sarà sia più difficile sparare sia più difficile colpire l'altro Di conseguenza cambierà molto le carte in tavola Fred, te lo dico Assolutamente sì Io posso, tu lo sarai già preoccupato No, io sto già andando a prepararmi Steph Ma cos'è la prima arma Steph? Cos'hai preparato? Devi tirare le pietre in faccia Perché? Pensavo si iniziasse con qualche bella pistola nuova, non con una pietra Abbiamo dei bel revolver, mp40, m1 carabine, eccetera eccetera Però si parte con una roccia Oh, l'hai provato a tirarne una? Sì Mentre salti, Steph I No, è difficilissima sta roba delle pietre, eh Non va bene Non va bene L'ho colpita Steph, non ci si prende a pietrate Muori Ma perché non muori? Quanta vita c'hai? Ma tanta Perché questa armatura è bella resistente, Steph Dai Chi muore prima? Chi muore prima? Morti entrambi, morti entrambi, morti entrambi Vabbè, cambiamo arma? Sì, sì, sì Dove cavolo sono finito? No, perché bass Blu respawn Ok, ok Dove sei? Eh sì, mi si era flippato tutto Allora, quindi revolver Perfetto, perfetto, perfetto Io sto ricaricando, Steph Sì, io sto già venendo a caccia Allora, qui si sparava, si mira Ok, ok, ok Sono un po' strana Ma è carica, secondo voi? No, mi ha fatto una ricarica finta Ok Quindi Steph sta perdendo tempo Buona a sapersi Dove sei? Dove sei? Che pieno di pietre, accidenti a te È difficile Allora, quando ricarico salto tutto il tempo Così farei non riesci a colpirmi Poi faccio così E muori Ma muori tu È un casino Ok Maledetto Cioè, quanta mi dai? Eh, poca Ok, meno male Ma quanto dico Tu quanta ne hai piuttosto, Steph? Che così non si vuole mai Dai, dovrei caricare adesso No, 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 no Anche io Ah, mezzo cuore Quanto avevi? Tre cuori e mezzo Perché c'è una bella reggiene Quindi o spari una raffica Eh, lo so È questa armatura che è troppo forte Che chi ci deve fare solterà Ma è troppo forte, Steph? Mi hai lasciato di Cioè, mi hai lasciato prendere l'arma nuova Grazie Eh beh, dovevo ricaricare Stessa roba è lentissima Ok, quindi Steph si è preso il vantaggio di un'arma Fede Cavolo Alla ground Non so cosa fare Ci abbiamo pensato la stessa cosa E la stessa torre Ok Dai, Steph Fammi capire l'arma Che questa è la mia Se le vado addosso, però Non potrà Fare nulla Perché la mitraglietta È più forte Dai, muori Sai che faccio? Ahà Ti tiro pietre Ma frega nulla Ti tiro pietre, Steph No Ti tiro pietre No, non le voglio le tue pietre Dai, Steph Non mi puoi Non mi puoi lasciare con quest'arma Per sempre E muori Tu non muori Tu non muori Quanto mi stai Accidenti a te Ferre, le pietre non funzionano Non mi dispiace Aia Non ho più proiettili, Steph Non fa danno Non fa danno Quest'arma Ora sì Ma no Devo cambiare, Steph Non ho più proiettili Vai, passa quella dopo Passa quella dopo Porca miseria Che schifo di armi Guarda Che schifo di armi Oh no Oh no Adesso sono messo anche peggio Ora sono messo anche peggio Non le hai scelte bene L'altra volta Era un po' più carina, Steph Beh, ma le ho messe brutte apposta Perché deve essere difficile a fare Sì, ma abbiamo troppa vita Con questo equipaggiamento E l'armatura Infatti non mi aspettavo fosse così forte Quello è il discorso Quello, sì Dove è il maledetto? Eccolo lì Ma che schifo Quest'arma, Steph Te l'avevo detto Non fa danno la carabina Ah, perché questa? No, il fatto è che abbiamo tanta armatura, Steph Non è tanto il danno No, devo ucciderti Se no mi tocca tirarti pietre all'infinito, Steph Allora, facciamo così Ok Mi ha visto Che brutta Che brutta Quest'arma, Steph Oh, alleluia Posso cambiare Questo schifo Finalmente Ok Ok Non venire qua A uccidermi Mentre cambio le armi Come gli infami Perché tanto so che tu lo farai È l'unica soluzione Per ammazzare e conquistarla Dai Ora sono fatti i tuoi È davvero scarsa Devo essere veloce Devo essere veloce Non puoi Via, via L'hai detto tu Che l'unica soluzione È per cambiare questa arma, Steph Ti prendo in parola Ti prendo in parola Perché ho ancora Questi caricatori messi così? Ok Ok Ma Pam 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 Com'è la nuova? La nuova non funziona Hai sbagliato armi? No Cioè proiettili? No Cioè dice che sono quelli Type 99 Sì Type 99 Ammo Non va vero? No Arma successiva Arma successiva Oh no Ok Oh no Oh 1500 Steph Hai notato quanto siamo lenti? Cioè siamo attaccati al pavimento Provo a saltare Quanto pesa quest'arma Porca miseria Steph Che casino fa? Cavolo è pesantissima Ma come? Ma ti è uccisa? Sì E mi è rimasto il grilletto premuto dopo che sono morto Cioè porca miseria Renditi conto Che cosa fantastica Ma sono lentissima E guarda che mi ha ammazzato Fere Ah ti ho ucciso? Sì Posso cambiare arma? Sì Ma non avevo notato fossi morto Vabbè Sì mi hai ucciso Ma hai visto quanto Ma la smetti? E scusa ci tenevo a farla bene questa kill Vabbè Torno Torno alla mia base Mi hai ucciso prima tu eh Ah pensavo avessi vinto tu Io ti ho ammazzata da morto No 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 Perché mi è rimasto il grilletto premuto Vabbè bug Ma che è sta roba? Allora avevo vinto e basta Ok ma la crossbow Perché Steph? Non provare a prendermi ora eh? No tranquilla Mi sono preso giusto il vantaggio di averla provata un po' Perché è davvero brutta Perché infatti a questo punto del game Almeno mettila all'inizio la crossbow Che cosa la metti ora? Perché è proprio in questi momenti che non te l'aspetti E che non riesci ad utilizzarla bene Ah cavolo non ho la mia armatura Neanche io Perché siamo morti Fere Vabbè giochiamo senza vai Questo round è senza Esatto Tanto credo che questa bestia non faccia danno Quindi secondo me È meglio non averla Ma devi ricaricare ogni colpo? Sì Ma ti ho fatto del danno almeno? Sì Ma Ti ho fatto del danno? Sì Ok grazie Devo scappare Devo scappare anche in fretta Tanto non mi ammazzi Manco se sto fermo Dai Steph Cioè non posso ricaricare ogni colpo Dai mi sono incastrato Ok Non posso Questo 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 Scusa ma le dovevo liberare Ci rimettiamo anche l'armatura? Sì Ok Assolutamente sì Ok Allora Veloce vadoce 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 Via queste cose non mi servono più Armatura Che abbiamo adesso? Una bella arma finalmente Sì 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 Questa era una delle mie armi preferite Su craft duty model war for 1 Ok Quindi una bella arma Ah sì C'era anche presente Ora che ho letto il nome Ho capito Ti distruggo Dove sei? Non senti i miei rumori Stai Sì sono a tue spalle Che infame Che infame schifo E sono anche vicino alla mia base Stavo aspettando quello In questo modo questa volta Faccio in tempo a cambiare arma E questa arma è sgrava Però devo dargli il tempo di ricaricarla Cavolo Questa fa schifo Stef Fa schifo Fa davvero schifo La prossima volta Stai muori Ah che noia È normale che vada così Oh no Esci fuori Ok mi sono liberata di sto schifo A post Addio Stef Quanto ci manca alla fine? Poco Ok ci mancano Poco? Sì Ok Ok Battene Ti vedo A pietre A pietre Senza ritegno Stef Ti tiro le pie... Vieni fuori No Anche perché Le tue pietre sono più forti Dell'arma che ho in questo momento Secondo me Come? Sì Ma è un fucile a pompa no? No io sono a quella dopo Ah Cioè sono Aia Eh questa fa male Ah Questa fa Parecchio male Che poi anche saltando Non è facile beccarci Tipo adesso No Mi rifermo l'arma Non avevi manco notato No speravo che tu non mi vedessi Perché non avevo speranza A revolver contro pompa Vabbè adesso siamo uguali no? Mettila Maledetto Tre colpi bastano Tu riesci a fare le chistro Dei infame guarda Guarda che sei tu che mi hai ammazzato Pompa contro revolver Se non è quell'essere infame Eh ma scusa ero indietro Che vuoi? Ero pure indietro di arma Ma che te ne frega Oh no Dov'è Stef? Non riesco a capire dove sei Perché ricarica ogni volta tutti I miei colpi Hai paura Fere? No per niente Hai paura? No per niente A me sembri spaventata No no A me lo sembri Mi sembri davvero davvero spaventata Perché sei? A parte che non ti trovo E perché sei ferma nella torre Se non hai paura? Perché dovevo capire dove sei tu Eh ma io so dove sei Tu non sai dove sono Ti ho visto qui sotto invece Sotto? Quindi so dove sei Ti ho visto a un certo punto qui sotto Infatti sei Scappo Che schifo di arma Stef Questa però non la dovevi fare come penultima Scusami eh Bella mia ultima un cechino Porca miseria Ok Uh quello era in testa Ti ho fatto male lo so Mezzo cuore avevo Che fortuna Scappo Ok se sta scappando Stai zitto Perché sento i tuoi pensieri Dai Stef Stai scendendo un fucile a cechino a distanza Dai Stef Quest'arma è penosa E io tiro pietre E io tiro pietre in giro Prima o poi ti prendo con una pietra Guarda Stef Ti ho presa? No Cavolo Perché fai schifo Scendi giù Non scendo giù Schifo Stef È più brutta di una pistola La più terribile Capito? Ricarica Dove sei finito? Maledetto Dove sei finito? Dove eri? Sono sceso e risalita Basta No non gioco più Basta Questa volta hai scelto Delle armi terribili Stef Lasciatelo dire È terribile Ma era per metterti in difficoltà Ma ma stai facendo ancora Ti sparo Fa schifo quel cecchino Smettila Basta 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 Questa volta la scelta dell'armi È stata brutta Stef Ma è così che è divertente No non è divertente Quindi devono essere armi serie Ma erano armi serie Basta Finito Semplicemente non difficile da usare Non le è piaciuta Non le è piaciuta Comunque Ci fermiamo così Se continuano a piacervi queste sfide Per la prossima volta Faccio preparare L'assistente segreto Se ti uccido Porca miseria Con questo revolver da guarda Neanche così riesco a prendere Cioè È peroso Neanche un ragino Se vi piace Faccio preparare Per la prossima volta L'assistente segreto Una mappa ancora più grande Decidete magari voi Le armi che vorreste vedere Quindi scriveteci magari Nei commenti Le armi che preferireste vedere In questa sfida così E ci risuideremo Con una mappa enorme Facendo appunto Questo tipo di sfida Dove ogni volta Abbiamo cambiato l'arma Costantemente Ad ogni kill E sarà stra divertente Per la prossima